Sono Chiara, ho 26 anni e insieme a Simone sono titolare di un'attività a Milano, una palestra EMS. Durante il lockdown ci siamo reinventati e abbiamo utilizzato il canale Instagram per svolgere lezioni sia private che pubbliche. Oltre alle dirette Instagram abbiamo utilizzato il nostro tempo per la ricerca di nuovi macchinari legati sempre all'elettrostimolazione, quindi metodo EMS, che ci permettessero di fare allenamenti sia indoor, quindi in studio, che outdoor al parco. La grande differenza è che oggi non siamo più legati a macchinari in studio, ma abbiamo la possibilità di fare allenamenti outdoor e a domicilio. Il lockdown quindi non ci ha scoraggiati, ma ci ha motivati a migliorare.